Buongiorno a tutti e buongiorno a Colonnello. Buongiorno Elisa. In modo veloce vorrei sapere il tempo nei prossimi dieci giorni. Insomma mi metti fretta. Dai partiamo, partiamo. Allora guarda, fino al 29 febbraio io i soliti dieci giorni non cambia quasi nulla. Ossia un tempo che di invernale ha poco e niente. Alta pressione, poche o niente piogge, poche e niente navicate, temperatura al di sopra della media. Stiamo dicendo quello che è avvenuto negli uri di domenica. Tre fasi, 20-22 di febbraio, anticicolone dell'Azor, ormai del primo di gennaio che è solitario, anticicolone dell'Azor, è bel tempo, nebbie sabato diffuse in tutta la Valpadana, temperatura al di sopra della media, venerdì nella seconda parte del giorno, venti difende sulla regione di nord-ovest. Una seconda fase, il 23, tra il 23 e il 25, arriva addirittura l'anticicolone nord-africana, peggio che mai perché non farà altro che far risalire le temperature, quindi ancora nebbie diffuse in Valpadana, temperature che risalgono di 4-5 gradi fino a portarsi quasi comunque su tutta l'Italia tra i 15 e i 20 gradi, 20 gradi sull'estrema regione meridionale ovviamente. Una terza fase, tra il 26 e il 29, arriva il solito nucleo di aria polare che investe tutta l'Europa centro-orientale, porta nevicate anche in pianura sulla Germania, sui paesi dell'est europeo, sui Balcani, sull'Italia arriva il primo spiffero intorno al 28, il 28 di febbraio, qualche spiffero sulle regioni adriatiche, qualche debole nevicata solo su Abruzzo, Molise e Lucania fino a quote relativamente basse. In questa fase ci saranno nevicate anche relativamente abbondanti sulle Alpe di confine, venti di febbraio nel 27 sulle regioni di nord-ovest, temperature in lieve calo solo sulle regioni adriatiche per effetto di questi venti più freschi dai Balcani. Ma possiamo dire che ecco, sì, ci saranno delle piogge, dapprima il 26 al nord, il 27 al centro, il 28 al sud, ma piogge peraltro deboli. Quindi come si vede queste tentativi dell'aria polare di raggiungere l'Italia falliscono sempre in maniera piuttosto misera. E tu sarai contenta, io lo so. Non dico niente. Eh, taci, eh. Bene. Anzi, ti ringrazio. Grazie a te, Lisa, un caro saluto. Buona giornata.